Il potere di bellezza e gioventù Il potere di bellezza e gioventù Non essere crudele col cuore degli altri Non tollerare la gente che è crudele col tuo Lavati i denti Non perdere tempo con l'invidia A volte sei in testa A volte resti indietro La forza è lunga E alla fine è solo con te stesso Ricorda i complimenti che ricevi Scordati gli insulti Se ci riesci veramente Dimmi come si fa Conserva tutte le vecchie lettere d'amore Butta i vecchi estratti contro Rilassati Non sentirti in colpa Se non sai cosa vuoi fare della tua vita Le persone più interessanti che conosco A 22 anni non sapevano che fare Della loro vita I quarantenni più interessanti che conosco Ancora non lo sanno Prendi molto calcio Sii gentile con le tue ginocchia Quando saranno partite ti mancheranno Forse ti sposerai o forse no Forse avrai figli o forse no Forse divorzerai a 40 anni Forse ballerai con lei Al 75esimo anniversario di matrimonio Comunque vada Non congratularti troppo con te stesso Ma non rimproverarti neanche Le tue scelte sono scommesse Come quelle di chiunque altro Goditi il tuo corpo Usalo in tutti i modi che puoi Senza paura e senza temere Quel che pensa la gente È il più grande strumento Che potrai mai avere Balla Anche se il solo posto che hai Per farlo è il tuo soggiorno Leggi le istruzioni Anche se poi non le seguirai Non leggere le riviste di bellezza Ti faranno solo sentire orrendo Cerca di conoscere i tuoi genitori Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre Tratta bene i tuoi fratelli Sono il miglior legame con il passato E quelli che più probabilmente Avranno cura di te in futuro Prenditi conto che gli amici vanno e vengono Ma alcuni, i più preziosi, rimarranno Datti da fare per colmare le distanze geografiche E di stili di vita Perché più diventi vecchio Più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane Vivi a New York per un po' Ma lasciala prima che ti indurisca Vivi anche in California per un po' Ma lasciala prima che ti rammollisca Ma lasciala prima che ti rammollisca Non fare pasticci con i capelli Se no quando avrai 40 anni Sembreranno di un 85enne Sei cauto nell'accettare consigli Ma sei paziente con chi li dispensa I consigli sono una forma di nostalgia Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio Ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte E riciclarlo per più di quel che valga Ma accetta il consiglio Per questa volta Per questa volta Per questa volta Per questa volta Per questa volta